Ciao creatura Io sono Eccati Splendente e benvenuta, bentornata nel regno di con la I, A, S, M, A, questa sera come tu Creatura mi hai chiesto facciamo un video dove ripetiamo delle frasi motivazionali così tu potrai ripeterle insieme a me oppure semplicemente ascoltarle così quando ti addormenterai avrai impresse nella tua mente tutte queste frasi positive motivazionali che spero possano aiutarti a sentirti meglio le ho fatte scegliere dalle mie creature più affezionate sul mio profilo di instagram più affezionate perché sono quelle che hanno voluto partecipare con un box sulle storie era aperto a tutti e loro hanno voluto partecipare potresti essere anche tu la prossima volta seguimi sul mio profilo instagram Eccati Splendente voglio ringraziare in primis tutte le persone che partecipano attivamente ai miei profili e questo video lo dedico tutto ai miei creatori Sei coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Sì coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Sei coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Sì coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Sì coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Sì coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Sì coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Sì coraggiosa e senza paura Abbi fiducia nelle cose belle Abbi fiducia nelle cose belle Non durerà per sempre Ciò che stai passando Non durerà per sempre Ciò che stai passando Non durerà per sempre Ciò che stai passando Non durerà per sempre Va tutto bene Va tutto bene Va tutto bene Va tutto bene Tutto Si risolverà nel migliore dei modi Va tutto bene Va tutto bene Va tutto bene Tutto 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 Si risolverà nel migliore dei modi Va tutto bene Va tutto bene Tutto bene Tutto Si risolverà nel migliore dei modi Va tutto bene Tutto bene Tutto bene Tutto 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 Non si risolverà nel migliore dei modi Va tutto bene Va tutto bene Tutto Tutto Si risolverà nel migliore dei modi Tutto 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 Si risolverà nel migliore dei modi Va tutto bene Va tutto bene Tutto 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 si risolverà nel migliore dei modi. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Il mio cuore è aperto a nuove opportunità ogni giorno. Ogni giorno mi apro ad infinite possibilità attraverso nuove esperienze ogni giorno. Ogni giorno mi apro ad infinite possibilità attraverso nuove esperienze ogni giorno. Ogni giorno mi apro ad infinite possibilità attraverso nuove esperienze ogni giorno. Ogni giorno mi apro ad infinite possibilità attraverso nuove esperienze ogni giorno. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. Ogni giorno mi sveglio grata per la giornata che ho davanti. si risolverà tutto. Si risolverà tutto . si risolverà si risolverà tutto si risolverà tutto resiste 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 resisti non preoccuparti creatura ci penso io ci penso io a te ci penso io a te Ci penso io, a te. Ci penso io. Ci penso io, creatura, non preoccuparti. Ci penso io. Ci penso io a te. Tu, non preoccuparti Ci penso io 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 Ci penso io, creatura Ci penso io Ci penso io Ci penso io, creatura Non preoccuparti di nulla Ci penso io Ci penso io ci penso io, ci penso io creatura, non preoccuparti di nulla, andrà tutto bene, ci penso io, ci penso io, ci penso io, ci penso io, ci penso io creatura, non preoccuparti di nulla, tutto 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 andrà bene, ci penso io a te, non preoccuparti di nulla, ci penso io, ci penso io, ci penso io, ci penso io creatura, tu sei utile, tu sei una persona utile, tu sei una creatura utile, tu vali, tu sei una creatura utile, sei una creatura utile, tutto andrà bene, andrà tutto bene, apriti a nuove esperienze, ci penso io a te, non preoccuparti, andrà tutto bene, sei una creatura utile, sei una creatura utile, sei una creatura utile, sei una creatura utile, tu sei una creatura utile, hai messo like, tu sei una creatura molto utile, tu sei una creatura molto utile, hai messo like, tu sei una creatura molto, 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 moltissimo utile, spero che questo video ti abbia fatto rilassare, come sempre ci ho tenuto sul finale a strappare un sorriso, io ti auguro buonanotte, 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 io resisti, 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 resist Buonanotte, 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 ciao creatura